Exoraptics, oggi vi presento lei, la nostra nuovissima Jaguar XF Sportbrake, un 2180 CV con suo allestimento pure, colore blu. Cerchi in lega da 17, ci spostiamo per visionare più nel dettaglio il bagagliaio. Bagagliaio con apertura elettrica, come potete vedere lo spazio non manca, abbiamo anche il rotino di scorta. Luce di cortesia sia sulla destra che sulla sinistra e abbiamo la possibilità di abbattere i sedili con le leve, quindi molto comodamente. La chiusura è sempre elettrica e troviamo i sensori di parcheggio posteriori. Ci spostiamo all'interno, poi troviamo i sedili che sono molto molto comodi, attacchi Isofix su entrambi i sedili per i seggiunieri dei nostri bambini. Centralmente troviamo i bocchettoni dell'aria e una presa da 12V. Anche anteriormente lo spazio non manca, i sedili sono molto comodi, è molto spazioso, troviamo gli stessi sedili in tessuto con il ricamo centrale. Volante a tre razze con la possibilità di gestire le chiamate e il limitatore di velocità, il touchpad centrale per gestire tutto l'infotainment, gestione del clima, pulsante per l'accensione, cambio automatico, comodissimi vani porta oggetti centralmente e anche all'interno del portabracciolo dove troviamo anche le prese USB e sempre da 12V. La vettura è stata immatricolata nel 2020 a circa 37.000 km di alimentazione diesel. Trovi queste e moltissime altre giagola all'interno del nostro sito ratix.com Grazie a tutti.